Con immenso piacere ospite del mio canale YouTube Luca Antonelli, un giocatore del Milan. Perché ovviamente la carriera di Antonelli è stata lunga, si è chiusa negli Stati Uniti, ma io quei tre anni di Milan, lui è nato anche nel settore giovanile del Milan, Milan Monza, me lo fa sempre appartenere al Milan, forse per il sangue del papà d'astino Antonelli, che ha vinto lo Scudetto della Stella. Quanto ti senti milanista Luca? Buonasera anzitutto Carlo. Io prima di esordire col Milan ho fatto praticamente tre anni di fila in curva a vedere praticamente tutte le partite e poi ho avuto la fortuna e l'onore di esordire a Udine un po' di anni fa, 16 anni fa e poi ho incominciato la mia carriera e essere tornato al Milan è stato il coronamento di un sogno. Luca Antonelli, giovani in curva, che partite ricorda dentro? Soprattutto il Milan-Inter, quello che perdavamo 0-2 poi 3-2, il Milan-Ajax, gol di Thomas sono alla fine. Ah quindi hai vissuto la Champions League del 2003. Sì, ho vissuto il Milan forse... 2003-2003, i meravigliosi di Carlo Ancelotti. I meravigliosi di Carlo Ancelotti. Sì, il Milan quello che andavo allo stadio e sapevo di vincere. Era bello, era bello. Senti, poi sei approdato a settore giovanile, hai debuttato. Mi sembra che abbiamo vinto 3-0 quella partita contro l'Udinese. contro l'Udinese e che Antonelli era rispetto a quello che poi abbiamo visto nel 2015? Era un ragazzino perché avevo 18 anni e per me solo fare allenamento con il Milan era una cosa di unico perché da tifoso puoi ritrovarmi in campo con i campioni che c'erano. E' stato un sogno. Poi sono andato via, ho fatto esperienza, sono stato via tanti anni e poi sono tornato nel 2015 e lì sono tornato già uomo, già giocatore che avevo fatto già tante partite in Serie A però ero contentissimo di essere tornato. Io l'ho sempre detto a Genova stavo da Dio e l'unica squadra che poteva farmi andare via da Genova era il Milan. Io ho rifiutato, io ho i preziosi, ho rifiutato tantissime squadre però ho detto se arriva il Milan mi devi lasciare andare perché quello è il mio sogno. Ho continuato finché non sono arrivato lì. Tu sei arrivato mi sembra a febbraio nella sessione invernale. Quando hanno incominciato a parlare Adriano Gagliani eccetera che cosa hai provato dentro? No, ero contentissimo perché comunque ritornare per la squadra per cui fai il tifo poi io sono di qua è un enorme piacere quindi io gli ho detto al presidente se accontenta te per i soldi io vado al 100% e poi è successo così e sono contentissimo. In quel Milan del tuo debutto quali erano i giocatori che ammiravi di più anche durante gli allenamenti dei tuoi anni giovanili di giocatore ancora tutto da esplodere? Vabbè quando ero nel settore giovanile c'era Nesta e Maldini che per me sono stati poi Nesta ho avuto la fortuna di incontrarlo a Miami un po' di volte perché vive là e io gli ho detto io quando parlo con te faccio fatica perché comunque per me è stato uno dei numeri uno al mondo e quindi ero sempre un po' in soggezione e poi invece quando è arrivato il Milan mi piaceva tantissimo anche se era un po' a fine carriera Alex. Ah beh chiaro diciamo che sono quei giocatori di carisma oltre che di bravura tecnica che affascinano il ragazzo oppure il giocatore che arriva a me. Sì sì perché comunque ha fatto una carriera pazzesca tra Chelsea e Paris Saint Germain per me era poi era non era come Stam grosso come Stam ma poco ci mancava quindi era era un punto di riferimento anche se era verso fine carriera. Mi sembra di aver letto correggimi se sbaglio che ti piacerebbe intraprendere la carriera di allenatore ho letto bene? Sì sì adesso a luglio incomincerò i corsi a Coverciano poi mi piacerebbe allenare sì però lo so che non è facile ma vabbè però insomma certo è degli allenatori della tua carriera adesso me ne hai butti magari dieci voglio dire due cosa prenderesti pizzichino di uno pizzichino dell'altro? Ma io di tanto prenderei di Gasperini perché per me è un allenatore fantastico perché comunque con squadre. Perché tu sei stato con lui a Genova vero? Io ho fatto due anni a Genova. Tu che lo puoi dire qual è la forza di Gasperini perché sai c'è il Guardioli però essere lo dici anche tu un punto di riferimento Iuric è un Gasperini ha una scuola che scuola è la scuola di Gasperini? Lui fa tantissimo uomo contro uomo in allenamento ti fa correre tantissimo ti sfinisce durante la settimana però poi la domenica voli anche noi quando poi sono andato via avevamo una squadra sì forte ma normale rispetto alle altre e però ce la giocavamo con tutte avevamo vinto con l'Inter avevamo vinto 1 a 0 col Milan l'anno prima avevamo vinto con la Juve e lui ti porta sopra il limite durante la settimana e la domenica è un piacere giocare. non vi sta un po' antipatico mi dicono che cioè diciamo che c'è il rapporto che c'è tra il cavallo e il fantino il cavallo non dico che odia ma detesta però quando sente le mani del fantino si eccita e va può essere il paragone sì sì perché lui non è non è che crea un rapporto di amicizia e simpatia col giocatore lui è l'allenatore noi siamo i giocatori però stai talmente bene fisicamente che anche se ti fa fare 13 14 chilometri al giorno non gli puoi dire niente che con l'Atalanta è arrivato secondo col Genova è arrivato in Europa e quindi è quello che dice lui si fa. Senti degli altri allenatori? Io avevo anche avuto Conte poco in nazionale però anche lui è un sergente così e ti porta anche lui allo estremo però quando vedi i risultati poi fai tutto quello che dice l'allenatore ho avuto la fortuna di avere Miajlovic che come uomo è forse il numero uno che ho avuto. Cioè non lo conosco in questo senso come rapporti è splendido lui? È splendido perché se ti dice A è A se ti deve menare e ti mena nel senso non c'ha vie di mezzo però se dice quello è quello altri allenatori che ho avuto nella mia carriera dicevano A invece facevano Z. Quindi quindi hai apprezzato la sincerità sul piano tecnico dove potrebbe essere la difficoltà di tra virgolette seguire l'orma di Gasperini è difficile oppure è anche un bravo maestro? No è sicuramente un bravo maestro è difficile perché devi stare benissimo fisicamente perché se non stai bene fisicamente vai in difficoltà con tutti perché magari fai il pressing un metro dopo e in Serie A ti rubano il metro e poi ti vanno a far gol ma se stai bene fisicamente puoi competere con tutti. Ci ricordi quella tua grande due due episodi di Milan potrei dirne anche di più innanzitutto tu sei come Nordal perché come Nordal? Antonelli come Nordal perché arriva mi sembra il 2 o il 5 mi sembra il 2 febbraio debutta il 7 febbraio a Torino e realizza il gol dell'1 a 1 mi sembra contro la Juventus o dell'1 a 0 dell'1 a 1 dell'1 a 1 e Nordal è arrivato a gennaio dopo quattro giorni debuttava con la propatria lui magari ne ha fatti due o già due o tre però voglio dire sono riuscito a trovare questo paragone arrivi e segni subito un gol a Torino con la Juventus la parida non è andata benissimo però è bello. E però è il debutto che sognavo nel senso preferivo un altro risultato però fare gol allo Juventus Stadium con la maglia del Milan succede a pochi e quindi questo me lo ricorderò per tutta la vita. Un momento ma dopo due o tre giorni che sei arrivato. Dopo due o tre giorni sì sì ho fatto ero arrivato e ero venuto a vedere mi sembra allo stadio Milan Parma che era la partita prima e poi ho dovuto fare tutte le visite mediche così il giorno dopo e poi ho fatto metà settimana di quella lì e ho giocato subito e sono riuscito a fare gol. Beh direi una grande estima dell'allenatore perché metterti sul solito il difensore deve conoscere diciamo i movimenti l'affiatamento con i compagni buttarti subito è stato un bel gesto. Sì sì no poi Pippo lo ringrazio il ministro Inzaghi lo ringrazio sempre perché comunque mi ha riportato al Milan quindi faccio il tifo anche per lui ovunque va. Certo la vittoria di Doha. Il Milan purtroppo in quegli anni non era un Milan molto vincitore però la vittoria di Doha. È bellissimo. Meritate. Sì sì meritate meritate mi ricordo che aveva fatto un gran gol Jack buonaventura che eravamo andati sotto che aveva fatto col Chiellini mi sembra se non sbaglio. Certo. Poi però c'era Suso che ha fatto impazzire di là Evra. Sì che era uscito Alexandro che stava facendo benissimo per infortunio è entrato Evra. È bello perché poi i rigori contro la Juve e non in Italia mi ha fatto ritornare indietro di un 12 anni e quindi è stato bellissimo perché dopo aver vinto con la Juve a Doha i ricordi di Manchester sono ritornati subito fuori e quindi per me è stato una. Poi il mio primo trofeo importante. Cioè l'unico praticamente che ho vinto e quindi è è stato bellissimo. Senti Luca un altro momento importante quando esci a Bati indossi la fascia di capitano in una Coppa Italia mi sembra. Sì sempre con la Juve. Eh sì io ho avuto la fortuna di fare anche il capitano a Genova che comunque è una piazza grandissima. Importante. Per tifo per tutto per storia però fare il capitano al Milan. C'ho la foto nel mio telefonino di quando ho indossato per poco tempo la fascia di capitano però è sempre stato e rimarrà un ricordo indelebile. Dove eri quando il Milan batte il Sassuolo e vince aritmeticamente il campionato? Come l'hai visto? Ero in aereo. Ero appena tornato dalla trasferta. Americana. Americana sì sì. Avevamo giocato mi sembra in Carolina del nord o del sud e appena sono riatterrato ho acceso il cellulare mancavano 20 minuti. Ho visto che eravamo 0 a 3 e quindi ho festeggiato lì perché poi ho conosciuto altri miei amici lì che di famiglia. La sera siamo andati a festeggiare insieme. E beh immagino. Com'è il calcio americano? Ma è molto fisico. Prevalentemente fisico. Io non pensavo di trovarmi così bene anche con la città, con le trasferte perché comunque sono Tu eri a Miami scusa. Io ero a Miami sì. Sono trasferte lunghe perché comunque fai sei ore d'aereo, ci sono tre ore di fuso orario. Però sono stato proprio bene perché comunque eravamo liberi. Dopo la partita liberi di andare a visitare la città, di andare a bere qualcosa con gli altri e quindi è un calcio totalmente diverso dal nostro e quindi mi sono trovato proprio proprio divinamente. Senti adesso il Milan di Pioli raccontami come lo stai vivendo e questi giocatori che hai visto crescere come Teo Hernandez, come Leao, come Benasser, come Tonali, come Tomori. Io adesso chiederò a Calabria se può chiedere a Pioli se posso andare a vedere qualche allenamento. Comunque è un punto di riferimento per tutti adesso Pioli perché comunque ha vinto uno scudetto non da favorito perché c'era una squadra più forte di noi. Posso essere un esempio per tutti. Poi c'ha Teo Hernandez che è il terzino più forte al mondo. C'ha Benasserio, c'ho giocato insieme a Empoli. Si vedeva che era forte ma non pensavo così forte. Tonali il primo anno ha fatto fatica e l'anno scorso sembrava Gerard. Adesso è rimasto solo Calabria di quelli che conosco, di quelli che ho giocato insieme. Ma come lo immagini andare a vedere l'allamento di Pioli? Come lo immagini? Dopo ci risentiremo per capire se quella tua, diciamo, idea poi si è tramutata in realtà. Come lo immagini l'allamento di Pioli? Ti dico la verità, non ho più palli di idea perché io vedendo la rosa del Milan e la rosa di altre squadre, a iniziato dicevo che il Milan non potrà mai vincere il campionato. Anche se il Milan aveva dei buonissimi giocatori, ma meno rispetto a Inter, Juve e altre squadre. Però vedendo giocarli, vedendo che ci credevano sempre di più, a un certo punto ho detto ma lo vinci veramente il Milan questo campionato. Poi dopo che l'Inter non ha vinto a Bologna, adesso è tutto nelle nostre mani. Sei preoccupato per l'inizio buono, ma ci si aspettava di più di De Chetelè, ricordi qualche altro giocatore che ha fatto fatica e poi si è, lasciamo stare gli ultimi tonali eccetera, nella tua carriera? Non è facile comunque venire da un campionato totalmente diverso, con la pressione di essere stato pagato 25-30 milioni, non mi ricordo. Sicuramente ha delle ottime qualità. Adesso si vede che è un po', non spaventato, però è un po' intimorito anche nel cercare la giocata. Però ci sta, è giovanissimo a giocare a San Siro davanti a 80.000 persone, non è facile. Maldini per ora non ne ha sbagliato uno e quindi sicuramente diventerà un campione. Tanti lo paragonano a Kakà, è un paragone un po' azzardato perché di Kakà ce n'è uno e ce ne sarà sempre uno. Però speriamo si avvicini a Kakà. Ti sarebbe piaciuto affrontare, non so bene adesso da che parte si, affrontare Leao? No. È meglio per una squadra che contro, perché lui quando accelera è come se giocasse contro dei bambini. Quando decide di accelerare, ti salta, punto. Non è che c'è, posso fermarlo, posso no. Il problema è che magari non lo fa per 90 minuti o non lo fa per tutte le partite, ma quando decide di partire è imprendibile. Anche perché poi gli arriva sopra te Ornandez e quindi è dura fermarli tutte le due. E quando vedrai a Milanello, se andrai come mi auguro, ovviamente mi sembra ovvio, Ibrahimovic cosa gli chiederai? Io adesso ho smesso, ho 35 anni, perché comunque sentivo che non potevo dare più quello che davo prima. Non per questioni fisiche, proprio per questioni, cioè non avevi un problema magari al muscolo? No, 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 no. È perché non mi sentivo più come ero prima. Siccome sono il primo che non vuole andare in giro a fare brutte figure, ho preferito dire basta. E lui ha 41 anni, è vero che l'anno scorso ha giocato poco, ma quando ha giocato poco, anche se ha giocato poco, ha fatto la differenza. C'ha 41 anni, sembra che ne abbia 20. Poi è vero che non corre più, perché tutti dicono, ma non corre più. Ma quando è in campo ti fa sempre gore. Dammi uno a me che non corre, ma mi fa gore, mi fa benissimo. Senti Luca, come ti senti da, diciamolo, ex giocatore? È dura o più? Ho ancora tre giorni di incontratto col Maglioni, quindi sono ancora un giocatore. No, bene, ho finito bene, sono andato là perché volevo fare un'esperienza diversa rispetto a quelle italiane, volevo vedere come vivevano il calcio là. Ed è totalmente diverso quello che lo vivono qua, perché là ci sono zero pressioni. Là è più uno show, perché prima della partita c'è uno show, a fine primo tempo fanno lo show, a fine partita fanno un altro show. E quindi volevo vedere proprio questa mentalità aperta che hanno e mi è piaciuta tantissimo. Vorresti per concludere partire da qualche settore giovanile, oppure magari oppure secondo come ha fatto Ancelotti di Sacchi per imparare, oppure buttarti subito su una squadra, magari partire dalla C, dalla B, non lo so. Hai un tuo desiderio? Come se dovesse dipendesse da te. Sì, no, mi piacerebbe allenare subito i grandi come idea, però so che devo fare i corsi, quindi passeranno ancora un paio d'anni, perché tra un corso e l'altro devo essere tesserato per otto mesi per una squadra, quindi sicuramente andrò a fare il collaboratore o del settore giovanile o della prima scuola di un qualcuno che mi vorrà e poi mi piacerebbe allenare, sì, però so che è difficile, però adesso a gennaio, febbraio voglio andare in Inghilterra a seguire un po' gli allenamenti di Guardiola, di Conte, di Arteta, di De Zerbi, mi piacerebbe fare quel giro per prendere spunto un po'. Poi mi piacerebbe andare in Italia da Gasperini, da Pioli, da Dionisi, che ho avuto a Empoli, che secondo me è molto bravo, e girare un po'. Quindi vediamo. L'augurio che ti faccio io è questo. L'augurio è che, mi sembra il più bello, che la tua squadra sia identificata. Cioè questa è la squadra di Antonelli. Un segreto di Pioli è che c'era identificazione nel gioco del Milan. Mi sembra l'augurio più bello. Più bello, sì, per un allenatore avere questo è il Milan di Pioli, questa è l'Atalanta di Gasperini, questa è di Pinco Pallino, è la cosa sicuramente più bella. Allora un grande saluto, un grande saluto alla tua famiglia, a tua moglie. E ci vediamo, io ho preso già i biglietti aerei per Tottenham a Milan. Ah, ci vediamo là. Benissimo. Ci vediamo a Londra. Ci vediamo a Londra, sicuramente ti chiamo e andiamo fuori. Un abbraccio. Un abbraccio, grazie Carlo. Ciao.